Uno dei gossip più ruventi di quest'estate è stato quello che ha riguardato la crisi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. A differenza però di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, protagonisti dell'altra clamorosa burrasca VIP, l'imprenditore e la conduttrice non hanno mai fatto annunci per confermare il loro periodo o no. Tuttavia, diversi indizi hanno raccontato altro. Ma ora a che punto è il loro matrimonio? Sono davvero vicini all'addio? La rivista Diva e Donna ha fatto chiarezza, spiegando che i due, dopo aver vissuto gran parte dell'estate lontani e separati, un po' per impegni lavorativi, un po' per scelta, sono tornati sotto lo stesso tetto a Monte Carlo. Non tutto però è risolto, anzi.